Buongiorno a tutti per questa rassegna stampa di oggi 16 dicembre, vi dico subito che questa sarà l'ultima puntata, quella di questa sera, di Quarta Repubblica, cioè Quarta Repubblica va in vacanza per un bel po' di giorni, non vedo l'ora anche perché sono stanco morto e quindi questa sera parleremo di tutti i temi che ci sono oggi sui giornali perché era evidente che delle sardine si sarebbe dovuto parlare così come della popolare di Bari. Il tema fondamentale dei giornali è i due titoli, i castici oggi sulla salvatare, della popolare di Bari, cioè la banca pugliese che è sostanzialmente fallita, sono Corriere della Sera, Pari, salva la banca, Repubblica ed ecco il salva banca, in realtà quello che è successo è secondo me il titolo più straordinario è quello del mattino di Napoli che scrive una cosa totalmente falsa, non è il mattino che scrive una cosa falsa, è ripete una cosa totalmente falsa che Conte e altri politici stanno dicendo in queste ore, 900 milioni per il Sud, è una stupidaggine, non arriverà neanche un euro al Sud, salveranno una banca del Sud che ha prestato soldi a imprenditori del Sud che hanno bruciato quei soldi e quindi stiamo parlando di una banca che soltanto quest'anno, leggo sui giornali oggi, farà probabilmente un bilancio in negativo di 400 milioni, Andrea Greco mi sembra era sul Repubblica che oggi mi spiega Andrea Greco che il bilancio di quest'anno sarà con una perdita, fatemelo vedere qua, di 400 milioni, cioè la banca popolare di Bari perde quest'anno 400 milioni, 400 milioni, lo Stato viene da 900, secondo voi quanto dureranno questi 900 milioni, un po' come il prestito ponte di un miliardo e tre anni all'Italia, poi gli altri 400 milioni, come i soldi che daremo all'Ilva, ragazzi un'azienda come l'Ilva che perde un milione di euro al giorno, due milioni di euro al giorno, un'azienda come l'Italia che perde 800 mila euro al giorno, oppure un'azienda come la popolare di Bari che ne ha persi 400 milioni, secondo voi arriva Babbo Natale e riescono a salvarla? No, sono soldi che pagheremo noi, perché io là sapete che vorrei gli scatoloni come quelli di Lehman Brothers, toc toc, gli scatoloni, perché non è possibile che noi si paghi per le cazzate della popolare di Bari, certo, dicono quelli che pensano bene, oggi su tutti i giornali, comprendo benissimo il loro punto di vista, se fate saltare una banca saltano i risparmiatori, saltano i correntisti, saltano gli obbligazionisti e quindi succede un casino, bisogna ricordare ai risparmiatori italiani che mettere i soldi in banca oggi non è più sicuro, va bene? Non è più sicuro, perché alcune banche saltano, oggi c'è lo Stato che le salva, ma per quanto potremmo accettare che lo Stato, cioè tutti i contribuenti italiani salvino le banche italiane, ve lo chiedo, ve lo chiedo semplicemente, poi possiamo anche essere d'accordo che ogni anno c'è una tassa per salvare le banche, mettiamoci d'accordo, però Di Maio ci racconta la cazzata, perché se no non siamo d'accordo e sapete qual è? La cazzata è che adesso nasce una commissione che indaga sulle banche, chi se ne frega? Sapete chi mettono a presidenza della commissione? Lanutti! Io leggo delle cose straordinarie su Lanutti, non quelle su Twitter soltanto, Twitter lui ha detto che i problemi ha citato come i problemi del sistema bancario mondiale derivino dagli ebrei, va bene? Dai Rothschild, derivino da loro! E questo sarà il presidente della commissione banche, che sarà molto utile per risolvere i vostri problemi, voi mettete Lanutti alla presidente della commissione banche e io non capisco come cazzo Salvini possa per un solo, un minuto, un solo secondo fargli passare davanti al cervello, Salvini, toc toc! Lanutti non va bene come presidente della commissione banche perché questo è il vero populismo, orribile, orribile, pensare che Lanutti diventi presidente della commissione delle banche per dire cose, il problema non è quello che hanno fatto fino a ieri, che hanno distrutto i nostri soldi, ma è quello che faranno nel futuro e voi non ci mettete uno che pensa che sia un complotto degli ebrei a gestire questa roba qua, o no, in un paese normale, in un paese normale, Lanutti, Lanutti! Ragazzi voi io vorrei che pensaste cosa vuol dire mettersi in Lanutti presidente della commissione banche, è una cosa che mi viene il volto a stomaco, certo, poi io capisco perfettamente le critiche che la stessa maggioranza fa a Banca d'Italia, perché oggi quando mi leggo su Repubblica quello che ha fatto Banca d'Italia, nel 2010 Banca d'Italia aveva detto alla popolare di Bari in un'ispezione che non potevano fare acquisizioni, blocco delle acquisizioni perché fate talmente schifo che non potete comprare nessuno, diceva un'ispezione della Banca d'Italia, improvvisamente nel 2013 quando alla Banca d'Italia serve piazzare un'altra banca fallita, Tercas, permettono anche alla popolare di Bari di fare delle acquisizioni. Ragazzi, è chiaro che ci stanno prendendo per il culo, così come il tempo fa bene, in questo caso una delle uniche volte forse che condivido quello che scrive Paragone nella mia vita, beh Paragone dice è possibile che tutti quanti funzionari della Banca d'Italia che sono stati lì a controllare la popolare di Bari siano stati tutti promossi, tutti promossi, cioè è questa la meritocrazia della Banca d'Italia, non c'è uno dei controllori a cui, non so, abbia fatto qualche casino, è sempre colpa degli altri, è sempre colpa dei banchieri, è sempre colpa degli imprenditori posto che la Banca d'Italia dovrebbe stare lì a controllare e non hanno controllato una beata cippa negli ultimi anni? Vabbè, comunque vi segnalo che questa banca la comprerà il Medio Credito Centrale che è controllato dal Tesoro, cioè da noi e sapete quanto c'è di capitale il Medio Credito Centrale? 250 milioni, quindi avremo una banca da 250 milioni completamente controllata dal Tesoro che ne prende una che ha 400 milioni di perdite soltanto nel 2019 e chissà quante sono nascoste là sotto i tappeti perché se andiamo a fidarci della vigilanza della Banca d'Italia, ciao core! Seconda questione di giornata, fallisce il COP25, ma un pezzo migliore lo fa oggi Federico Rampini sulla Repubblica, tutti che piangono il COP25, io vi segnalo anche l'Economist di questa settimana che racconta le minchiate verdi, il greenwashing che sta facendo la finanza, cioè sono tutti bravi a dire facciamo il green, poi dopo a pagare sono i privati, 200 miliardi saranno gli europei, fondi privati e altrettanti, addirittura le banche centrali europee dovrebbero occuparsi del green, sostiene in maniera scandalizzata l'Economist, non un pericoloso transista, non uno che scrive sul mio sito nicolaporro.it, non Franco Battaglia, l'Economist dice siamo impazziti, beh siamo impazziti e comunque non è colpa di Trump se questa roba salta, a dispetto di quello che scrivono tutti i giornali, lo dice bene Rampini, ragazzi calcolate che negli ultimi anni le emissioni sono cresciute per la metà delle emissioni inquinanti di questo paese che nascono da Cina e d'India e questo arriva dal 92, non da oggi e la stessa Cina quando ha visto che il rallentamento della sua crescita è in atto ha ridotto gli investimenti nel green, allora di che stiamo parlando? Stiamo parlando di noi cattivoni o stiamo parlando di paesi che si vogliono sviluppare come ci siamo sviluppati noi negli anni 50? Bene, un'altra cosa che vi segnalo è quella foto di Greta che si vede seduta per terra vicino a un cesso o un corridoio dei treni tedeschi e questa foto è la foto che ovviamente non le fa lei perché ci vedono i suoi cosi, lei che guarda persa, ecco la Greta che sta lì seduta sul treno, cosa che è capitata a tutti noi a 15 anni di sederci su un treno ragazzi, a tutti noi è capitato di sederci per terra su un treno ma a Greta no perché lei si fa la foto seduta per terra sul treno ma le ferrovie tedesche poi dicono cara inutile che ti fai quella cazzo di foto sul treno perché poi noi ti abbiamo messo in prima classe, allora quanti di voi a 15 anni andavano in prima classe sul treno, oh voglio sapere quanti di voi a 15 anni andavano in prima classe sul treno e soprattutto pagato dai contribuenti tedeschi, dalle ferrovie di stato tedesche, scusatemi non so se sia pubblica o privata le ferrovie della Deutsche Bahn, bene questa specie di gigantesca operazione mediatica fatta su Greta non ce la rende simpatica perché non ti fai una foto seduta per terra se poi le ferrovie ti mettono in prima classe a 15 anni, Greta toc toc, quanti 15 anni vanno in prima classe sui treni? Probabilmente direte voi, pochi 15 anni fanno quello che fa Greta, può anche darsi però allora non facciamo i fenomeni sul sedersi per terra vicino ai cessi, fanno l'accordo sul Movimento 5 Stelle del nuovo partito, si chiamano facilitatori, oggi Financo il loro organo di stampa quotidiano che si chiama Il Fatto, nota che sono tutti del sud, Campania e Sicilia, che sono tutti amichetti di Casaleggio e soprattutto che manca tutta la pattuglia ministeriale da questa celebrazione inutile perché poi alla fine lì si sa bene chi comanda, ma forse vuoi bene che sia anche così. Retroscena di Roncone su Italia Viva, attenzione perché alcuni dei deputati di Italia Viva se la iniziano a fare sotto perché dicono chi mi rieleggio se questo partito prende il 3,5%? La Meloni invece risponde a Salvini, dice l'idea bipartisan di fare un grande coalizione per risolvere i problemi, dice la Meloni a Salvini basta con questi governi istituzionali, andiamo al voto, non pensiamo di fare questi grandi governi con tutti quanti insieme, è quello che sostiene la Meloni in un'intervista al Corriere della Sera, nel frattempo però il fatto ci spiega che ci sarebbe un inciucione tra Salvini e Renzi per fare un patto contro Conte, ma vedremo quello che succede nella politica, nel frattempo nella politica succede soltanto una cosa e cioè il fenomeno Sardine, nel bene o nel male, ne parleremo questa sera, questi dicono vogliamo arrivare al 25%, non sono un partito e quindi uno dovrebbe chiedersi ma per fare che? Oggi Ricolfi è straordinario, dice che le Sardine in realtà hanno un filo di continuità con i girotondi e con il popolo viola e soprattutto con tutti quei momenti internazionali che si sentono super fichi e sapete qual è? che si sentono la parte migliore degli italiani, gli altri sono merda, loro invece sono buoni, santi, garbati, per bene, tra l'altro rispetto agli altri, devo dire la verità, sono molto più garbati, quando voi vedete questo Mattia che è il loro leader ha un tratto totalmente garbato, molto più diciamo educato, devo dire anche con un modo di esprimersi molto migliore rispetto ai suoi predecessori che erano pieni di rancore, lui questo rancore non lo fa vedere, ma io ho capito, ci stavo pensando da settimane, ma chi mi rappresenta, chi mi ricorda è Augias, avete presente Corrado Augias de Noantri, anzi de Noantri, dei Bolognesi, ma questo per lui sarà certamente un super complimento perché così come Corrado Augias ha quest'aria diciamo letteraria, per bene, colta, così Mattia è un'aria molto carina, molto carina e anche molto, io lo ascolto con attenzione, ma come Augias dietro a quest'aria poi ci sono delle cose tremende, ci sono le censure che fa Augias nei confronti di chi non ama, il fatto che dice che la destra è cretina e la sinistra è intelligente, quelle cose di Augias le conoscete bene, su Santori ovviamente dobbiamo dargli ancora il beneficio dell'inventario, vedremo dove andrà a finire la sardina, però ci sono due o tre cose che sono insopportabili, non sempre sono rivolte ovviamente a lui, ma al movimento nel suo generale, ma insomma, caro Santori, toc toc, fare la manifestazione dei 150 coordinatori delle sardine o quello che diavolo sono, in un palazzo occupato dove rubano l'energia elettrica, è quella roba lì, non è una roba che proprio, cioè non è né di destra né di sinistra, è una cazzata, è una cazzata, scusami non ti offendere se dico una cazzata, è una cazzata, andare in quel palazzo è una cazzata, vi riunite ovunque, ma non in un palazzo occupato, dove non pagano la luce e fottono quelli che la pagano normalmente, i tuoi amici del PD, delle province e delle periferie di Bologna, pagano la corrente? Quei centri pagano la corrente? I centri per l'anziani pagano la corrente? Secondo me anche qualcuno dell'Ampi la paga la corrente, non quelli che stanno in quel centro sociale dove vi siete riuniti, ma è una piccola dettaglio, poi c'è tutta questa polemica sulla sardina islamica, ma in realtà voglio dire, ovviamente quella va lì sul palco, ce l'ha con la Meloni, insomma è legittima, a me non me ne frega niente di questo aspetto qui, e manco che sia musulmana, e manco che sia orgogliosa di essere musulmana, e vi dico la verità, anche il fatto che sia sposata è figlia di un iman, come spiega bene oggi il giornale, quello di Padova, che è uno dei più, come posso dire, moderati che ci siano in Italia, quindi non sono molto scandalizzato, certo, c'è un marito che dice che è peggio Israele dell'Isis, ecco, il marito è un'altra cosa, ecco io forse col marito non lo voglio, quella foto, e purtroppo sai il marito te lo porti dietro, quella foto che c'ha Mattia, lei e il marito, il marito che dice che è peggio peggio l'Israele dell'Isis, ecco, se fosse stato a, diciamo, toni ribaltati qualcuno gli avrebbe fatto un mazzo così, no? Se uno avesse detto, non so, che il nazismo è meno peggio del comunismo, non lo so, qualsiasi cazzata, insomma, non è vero, caro amico, l'Israele non è peggio dell'Isis, Israele è l'unico paese democratico in quella cazzo di zona, chiaro? E poi vorrei sapere, ma pensate voi una ragazza che al contrario di quella fosse cattolica e si fosse messa in un palco e avesse detto sono orgogliosa di essere cattolica, gli avrebbe fatto un mazzo così, vabbè, ma lasciamo perdere chi se ne frega, mi interessa relativamente, Del Vigo racconto un'altra cosa che, e qui anche non va bene, cioè questa loro idea che i social sono, devono essere fatti bene, buoni, loro stabiliscono cos'è buono, bene, buono, educato, non incitazione all'odio, cioè l'odio può anche essere quello di Augas, l'odio, una parola d'odio, è quella che dice col sorriso Augas quando dice che la destra è cogliona e la sinistra ragiona, che la destra è pancia e la sinistra è cervello, anche quello è odio, ma io penso che l'odio possa, voglio dire, tranquillamente essere sui social e possa anche essere in televisione come ha fatto Augas, lo contesto, ma penso che ci possa essere diritto all'odio, ma quello è odio e quell'odio cosa facciamo, lo mettiamo nei social o no, cara Sardina? Franceschini ovviamente ci mette come tutto il PD il cappello sopra e poi c'è la Sardina di Barletta, l'ultima cosa che vi segnalo, l'altra coordinatrice che fa capire esattamente dove sta, e cioè si voti PD. Insomma, ha ragione, secondo me, alla fine Ricolfi, sono i soliti Girotondini e Popolo Viola che hanno veste diversa, la finta dei ragazzi ovviamente ci crede nessuno, cioè ci sono dei ragazzi, ma se voi andate in piazza, come faremo vedere questa sera, i ragazzi ci sono come ci sono i vecchi, come ci sono i giovani, come ci sono gli LGBT, come ci sono i neri, come ci sono i bianchi, come c'è forse qualcuno di destra, sempre che di destra sono le perine, le perine sono di destra, e poi ovviamente la loro richiesta di chiudere il... bravo Alessandro, odio democratico, io le sardine le farei solo fritte, no, io non le farei fritte, non mi frega niente. Beh, poi vi segnalo l'ultima cosa oggi sui giornali per chi lo adoro, ma in realtà il pezzo non è che vale tanto, quindi non cadete nella mia trappola perché in Repubblica c'è un pezzo di Quentin Tarantino su Sergio Leone, metto le due cose insieme, Tarantino e Leone e dico c'è un pezzo della Madonna, è un pezzo poi raccontato del 2018 in cui dice che Tarantino si ispira a Leone, che Leone lo ha fatto diventare regista, ma in realtà il pezzo vale zero, zero. Ho perso tre minuti nel leggere un pezzo dei due miti del cinematografo che io adoro tantissimo, ma il pezzo vale veramente nulla. Noi ci vediamo questa sera, come sempre, ecosostenibili, su Rete4, Quarta Repubblica, e noi questa sera faremo una Quarta Repubblica ecosostenibile. Parleremo delle sardine, delle popolari di Bari e di questo paese che sembra governato solo da una categoria, i magistrati. A più tardi, ciao.